Benvenuti al canale il volantino. Questo è il volantino 1 euro. Passione casa. Valido dal 28 aprile all'11 maggio 2023. Se volete vedere meglio una pagina vi basta fermare il video. Se avete suggerimenti oppure vi interessa il volantino del vostro negozio preferito vi preghiamo di commentare, saremo felici di aiutarvi. Vi auguriamo di trovare le vostre offerte preferite. Grazie e buona visione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.